Ciao mamma! Chloe, bentornata a casa, amore! Allora, tutto pronto per la festa a sorpresa di papà? Purtroppo è stato chiamato al lavoro. Posso offrirti un caffè? Sto aspettando qualcuno. Mio padre. Ciao, tesoro! Benvenuti a bordo del 257 della Bancon, diretto a Londra. Il tempo di volo sarà di 6 ore e 30 minuti. Ti voglio bene. Le persone di questo aereo sono semplicemente svanite nel nulla. Chris, fammi entrare! Chris! Rainy! So che volete sapere cosa sta succedendo e credetevi, sto facendo il possibile per scoprirlo. Ne stavano parlando in tv. Non è solo qui. Sta succedendo in tutto il mondo. Irene sapeva che sarebbe successo. Mi parlava della profezia. Come faceva a saperlo? Non ho spoiler, non ho flap, non si apre il carrello. Non ho più carburante né spinta propulsiva. Liberate la pista! Voglio che tu sappia quanto ti voglio bene. Qualunque cosa accada. Papà! Sembra la fine del mondo. Left Behind, la profezia. Dal 29 luglio al cinema. Forrest Whitaker è in trattative per unirsi al cast di Star Wars, Rogue One, il primo spin-off di Guerre Stellari. Whitaker raggiunge quindi Felicity Jones, che sarà la protagonista femminile, Diego Luna, Ritz Hamed e Ben Mendelsohn, che invece dovrebbe interpretare l'antagonista principale del film. Non è ancora chiaro quale personaggio invece interpreterà Whitaker, mentre il regista, Garrett Edwards, ha già rivelato la trama. Il film sarà ambientato tra l'episodio terzo e il quarto, e avrà come protagonisti alcuni membri dell'alleanza ribelle che devono rubare i piani di costruzione della morte nera. L'uscita del film è stata programmata per il 16 dicembre 2016. Scaricate la nostra app e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!